Abbiamo voluto dare a questa sezione un titolo volutamente importante, perché stiamo parlando del grande valore che ha avuto l'educazione nel periodo della ricostruzione, a partire dalla lotta contro l'analfabetismo che era veramente ancora ad alti livelli, fino ad arrivare all'università. Dopo anni di dittatura si trattava di ricostruire il paese, ma anche di costruire dei cittadini. Il periodo fascista aveva visto una scuola che, per quanto almeno a livello elementare fosse obbligatoria, non era preoccupata sostanzialmente di formare degli uomini consapevoli del loro futuro, perché era molto selettiva. Cominciamo intanto a pensare che c'erano classi di 40-45 alunni e sicuramente non si faceva una didattica personalizzata, erano escluse sicuramente le persone con handicap e soprattutto era una scuola selettiva da un punto di vista economico, perché una certa categoria di popolazione scolastica che proveniva per esempio dalle classi rurali non aveva accesso con facilità, se non per casi particolari di merito alle scuole superiori e, anzi, per motivi economici prevalentemente, certi ragazzi di famiglia poco agiata o addirittura media, della media borghesia, preferiva indirizzarsi alla scuola dell'avviamento al lavoro e poi andare direttamente a lavorare. Diciamo che i licei erano destinati ai ragazzi che avevano già una tradizione familiare importante. La scuola prevalentemente si interessava di formare, in base agli ideali del regime, un uomo o una donna che potessero sorreggere la linea politica principale. Come dimostra questo quaderno già dalla copertina, è un quaderno del 1937 dove in copertina viene pubblicizzata la campagna imperialistica, appunto, del regime. E all'interno noi abbiamo addirittura la data del febbraio 1937, quindicesimo secondo dell'impero e il titolo del brano dettato al Balil. La formazione del cittadino che doveva venire con la nascita appunto della Repubblica parte comunque da delle strutture scolastiche che sono ovviamente di eredità, come dimostra questa lavagna che rimarrà per tantissimi anni, direi fino agli anni 70 e oltre nelle classi. Segno di resistenza della scuola anche ai cambiamenti violenti. Questa è la lavagna di Ardesia, pesantissima, mobile, che ci fa ricordare che la famosa frase vai dietro la lavagna era una cosa vera. Quando combinavamo qualche guaio o non eravamo pronti per la lezione, ecco, in punizione venivamo messi dietro la lavagna con grande disonore personale, poi anche perché poi a casa ci davano il seguito.